CON LO TERRORITTA Poi eliminare lo sfondo verde e metterci lo sfondo che vuoi tu Cioè il Gage Screen serve a fare uno sfondo personalizzato che vuoi tu e metterci in un'immagine Allora, questo telo verde ve lo potete sia prendere un telo e dipingere di verde Oppure ve lo fare da un... come si dice? Vabbè avete capito, da quella che vi fa vestiti insomma Oppure potete comprarlo nei negozi di effetti speciali ma non so neanche io dove sia, non lo so, vabbè Potete sia comprarlo nei negozi di effetti speciali ma potete anche andare su Youtube Se su Youtube, su Google e cercare Green Screen Screen Ebay E cercaverlo qua su Ebay Ecco che ne so qua Ci sta per esempio E' fatto così insomma Il verde deve essere più o meno questo Allora, innanzitutto che dovete fare? Dovete farvi un video così a cavolo di cane E' dove E' a vagina di gatto come si suol dire Non è vero, non si suol dire così Però è un video così Con lo sfondo dietro Sono Fingo Stoy Ok, anche se era un po' deprimente Voi vi fate un video così insomma Ok, questo Ok, niente, sto controllando una cosa E' Una volta fatto questo E' Andate su Google Immagini O quello che vi pare E vi cercate uno sfondo Che ne so Io faccio Che ne so, una discoteca Perché sto ballando Discoteca Ballando, tra virgolette Che ne so, facciamo Per esempio Quella che vogliamo Ci prendiamo, ci prendiamo questa Vi sorrisse l'immagine originale Perfetto E la salviamo La chiamiamo Disco Style Così Per dire .gpg Una volta scaricata Io me la metto in una cartella Nuova cartella La chiamo Scusate un attimo La chiamo La chiamo Tutorial Tutorial La lascio qui E ci metto Vabbè la cosa dentro Voi non la dovete fare per forza Ora la faccio io Per Per dare ordine Insomma Una volta fatto ciò Ci sono due modi per farlo Cioè Quelli che Che conosco Insomma Ehm Sul mac Ce l'avrete già salato E iMovie Se no su windows Penso che si possa scaricare Aspettate che controllo Download iMovie Voglio Ah vediamo Ehm Sto controllando Aspettate Ehm Per windows si può iMovie iMovie No Come vedete non si può Vabbè Se avete un mac insomma Voi aprite iMovie Aspettate che ci metta un po' Perfetto Aspettiamo che si carichi Ehm Ehm Voi Aggiungete Fate un nuovo progetto Che ne so Questo ora lo chiamo Tutorial E Praticamente Bisogna fare Così Prendiamo L'immagine Che Abbiamo preso Prima Ok La mettete qui Poi Scusate Elimina selezione Settrivate la selezione Automati Perfetto Ah come ho detto Mettete l'immagine Poi Fate archivio Importa Filmati E Importiamo quello di prima Importiamo il video Che abbiamo fatto prima Con il screen Trazione Filmato 14.mov In questo caso Eccolo Perfetto Perfetto Una volta importato Aspettate che Guardo Eccolo Ah questo dura 7,1 secondi Quindi Questo qua Mettete Regolazioni clip E mettete La durata Così almeno vi dura Quanto dura La clip 7,1 secondi Quindi Prendete questo E lo mettete qua E Dovete mettere schermo verde Se Non ve lo fa fare Questo effetto Perché Quando ce lo mettete sopra Non vi dice Grease screen Lo so io perché Dovete andare su Aspettate Dovrete andare su imovie E su preferenze Se non ve lo fa fare Dovete cliccare qua Se In teoria non c'è Invece voi ci dovete cliccare Così fa tutti gli strumenti avanzati Come il Grease screen Le pip Come faccio io Perché si chiamano così Le finestrelle della webcam Nei video E poi vi spiegherò Farò un tutorial Un tutorial Per farvi vedere come si fa Quindi dovete cliccare su Mostri strumenti avanzati Così ve lo farà fare E Quindi questo è come farlo con Con Imovie Ok Ora vi ho fatto vedere come farlo con Imovie Se avete un Mac Ora vi faccio vedere come farlo con Windows Con After Effects After Effects Se non lo sapete Costa tipo Mille euro Ora ve lo faccio vedere After Effects Aspettate che Vabbè Costa comunque tipo Mille euro Non lo so E quindi vabbè Ve lo craccate Quindi vabbè Fate come vi pare Una volta scaricato Lo aprite E importate Il file Che dovete importare Quindi io Non importo Quello di prima Ma ne importo Un altro Perché mi è venuto meglio Il fatto crescreen Perché Poi non viene bene Con After Effects Quindi è un casino Eccolo Perf No Non è Si va bene Va bene lo stesso Una volta preso Dovete Ehm Prendere Ehm L'immagine Che avete scaricato Metterla qua Vi apparirà qua Voi la prendete La mettete qua Poi prendete questo Cliccate qua Ehm Mettete Ehm Effetto Allora Voi non ve lo fa subito Voi dovete andare su Ehm Trasparenza E mettere Klight Oppure Trasparenza Colore Però vi consiglio Klight Perché è meglio Quindi mettete Klight Prendete questo qua ScreenColor Mettete il colore E ve lo fa Se volete fare una cosa più Più precisa Poi mettete le impostazioni Qua Qua Comunque è così l'effetto viene Quindi Vi ho fatto vedere Come si fa Aspetta vi faccio vedere Come è venuto Non fa il volume Perché mi pare che l'ho tolta io L'impostazione del volume Comunque ve lo fa Ehm E quindi ecco come fare Sia con i movie Che con After Effects Quindi mettete mi piace Se il video vi è piaciuto E iscrivetevi E soprattutto mettete mi piace E iscrivetevi Perché 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 Mi sono fatto il culo Per fare questo tutorial E capire come si faceva Quindi mettete mi piace Allora 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 Allora